La San Cataldese torna in campo per un'altra settimana di duri allenamenti in vista della prima giornata di campionato il 18 settembre. In attesa di conoscere il calendario della nuova stagione, la squadra verde-amaranto continua a lavorare allacremente sotto lo sguardo attento del tecnico Matteo Vullo. Si preannuncia un campionato difficile. La Serie D sembra avere tutte le caratteristiche della Serie C2 di un tempo, con diverse piazze blasonate. Catania, Trapani, Licata, Acireale, Ragusa, Castrovillari, Vibonese, Lamezia e Canicattì su tutte. In casa San Cataldese c'è voglia di cancellare in fretta il 5-0 subito nell'ultimo incontro di Coppa Italia con il Paternò. Si punterà subito alla conquista dei tre punti, a prescindere dall'avversario che proporrà il nuovo calendario. Così il portiere Gaetano Dolenti sulla pagina social verde-amaranto. Ad oggi a noi interessa creare le condizioni per arrivare al 18 settembre nelle migliori condizioni possibili, sia atletiche che di campo, tattiche. Quindi lavoriamo e lavoreremo nelle prossime due settimane per cercare di arrivare a questo appuntamento e portare a casa via, a prescindere da chi verrà o da dove andremo, i primi tre punti a casa, perché lavoriamo esclusivamente per quello.